Ciao ragazzi e bentornati a tutti quanti in questo nuovo video. Come promesso, negli ultimi due video, oggi andiamo a vedere la differenza tra un servizio decentralizzato che offre una copertura, che nasce per proteggere da asset finanziari, in teoria l'obiettivo saranno le commodities, ma per ora ci sta solamente Bitcoin ed Ethereum, rispetto a un servizio centralizzato, come ad esempio Bybit. Infatti, nel caso in cui ti fossi perso gli altri due video, praticamente andavamo a parlare di alcune strategie per proteggersi dalla volatilità durante il merge. Volatilità durante il merge non vuol dire proteggersi solamente da un ribasso, ma ovviamente non andremo a guadagnare neanche da un eventuale rialzo. Sostanzialmente l'obiettivo è stare neutrali al prezzo. Immaginiamo, non so, ho comprato Ethereum 5 anni fa, sto in profitto di 1000€, voglio proteggere questi 1000€, quindi che Ethereum dopo il merge vada a rialzo oppure a ribasso a me non interessa. Io ho deciso di utilizzare Bybit, in realtà poi utilizzo anche FTX, ma in sostanza ho fatto il video su Bybit. Però, come giustamente ha scritto uno di voi sui commenti, sarebbe stato utile analizzare anche MetalSwap. Allora, MetalSwap in teoria nasce proprio per questo tipo di servizio, ovvero protezione, edging. Quindi andiamo a vedere se effettivamente ad oggi il servizio è fruibile. Ricordo che questo servizio decentralizzato non è stato lanciato forse neanche un anno fa, forse 10-11 mesi fa, perché io quando l'ho fatto stavo facendo quel lungo viaggio di diversi mesi in camper, e quindi insomma è un progetto molto giovane. Allora, andiamo a vedere i pro. Questa qua è la lista riguardo a MetalSwap. Come vedete a schermo la schermata è totalmente cambiata. Infatti, quando io avevo girato un video proprio su MetalSwap mesi e mesi fa, non ci stava nulla, cioè non ci stava veramente niente. Ci stava solamente il token di governance e varie promesse e vari obiettivi. Ad oggi effettivamente è stato sviluppato qualcosa. Magari in un futuro video andremo a vedere se effettivamente hanno rispettato tutti i punti della roadmap, a che punto stanno, insomma andiamo a vedere nel dettaglio il sito. Oggi andiamo solamente a vedere la funzione di hedging, perché questa è stata lanciata e soprattutto è in mainnet, per ora solamente su Ethereum. Allora, come vedete la schermata, diciamo, è molto semplice. Penso che a livello grafico abbiano fatto un lavoro eccezionale. Come vedete qua è indicato il prezzo di Ethereum, qua la volatilità di Ethereum nelle ultime 24 ore, e qui la volatilità di Ethereum negli ultimi 7 giorni. I dati sono presi da Chainlink e già questa è un'ottima notizia. Qui vabbè ci sta un grafico del prezzo di Ethereum e qua si può cambiare l'asset. In teoria, ma per ora ancora non ci sono arrivati, bisogna anche dire che è passato effettivamente poco tempo, ci sta solamente Bitcoin ed Ethereum come asset. L'obiettivo di questa piattaforma però, il loro scopo, il loro goal, è andare a permettere di hedgiare e quindi di proteggersi sulle commodities. Infatti il prossimo obiettivo sarà andare a mettere l'oro, poi andrà a seguire petrolio, gas, insomma tutte le commodities. Ora torniamo su Ethereum, così andiamo a vedere un po' spread, prezzi, insomma per quale motivo io in questo momento non l'ho scelto. Allora, la schermata, che dicevo che graficamente secondo me è eccezionale, funziona così. Qui su Target Size bisogna mettere quanto noi vogliamo andarci a proteggere. Non so, io ho 5 Ethereum e voglio proteggere quel controvalore dei 5 Ethereum. Ad esempio, io l'ho comprati, non so, 10 anni fa, adesso valgono 300.000 euro e io voglio avere 300.000 euro. Non mi interessa, come dicevo prima, che il prezzo vada a ribasso, vada a rialzo, io voglio 300.000 euro perché, non so, sto comprando una casa e quei soldi mi servono e quindi magari qua vado a mettere 10 Ethereum. Ok, quindi questo è il Target che noi vogliamo utilizzare per andarci a proteggere. La Cover, che cos'è? È semplicemente il rapporto tra quello che noi andremo a mettere di nostra tasca rispetto a quanto vogliamo proteggerci. In che senso? Cover 1 sta per Cover 10%, quindi io per andare a proteggere 10 Ethereum dovrò utilizzare come mio capitale effettivo che devo avere il 10% di questo valore e quindi un Ethereum. Se io andassi ad alzare la leva, ovviamente devo avere più Ethereum da mettere a collaterale perché sostanzialmente io mi sto proteggendo da un prezzo a ribasso. Come vedete, tanto più io alzo la Cover, quindi sostanzialmente il margine, quello che io vado a mettere di tasca mia, e tanto più questa stanghetta rossa si muove. Questa stanghetta rossa che cosa indica? Indica il prezzo entro cui non veniamo liquidati. Infatti, se io ad esempio avessi 10 Ethereum e mettessi Cover 10, Cover 10%, che cosa succede? Che il prezzo di Ethereum adesso è 1.725 dollari e a 1.812,19 io verrei liquidato. Altre cose da notare, senza entrare troppo nel dettaglio perché non voglio fare un tutorial su tutta questa funzione e magari se vi dovesse interessare merita un video a parte, lasciatemi un like nel caso oppure i commenti per farmelo sapere, andiamo a vedere sostanzialmente le mie considerazioni personali. Allora, proteggersi con questo servizio a un prezzo. Infatti, qui a sinistra noi vediamo scritto premium. Premium non è il nostro margine, non è lo spread, è semplicemente il costo da pagare alla piattaforma. Un po' come su Binance paghi lo 0,1% oppure su FTX sempre lo 0,1%. Insomma, è un pagamento. Questo pagamento, tra l'altro, serve per fare il buyback del token di governance di MetaSwap, XMT. Quindi, sostanzialmente, tutti quelli che andranno ad utilizzare questo servizio pagheranno questo premium, che è variabile, varia in base alla size. Infatti, se qui mettessi 100 e quindi volessi proteggermi dal prezzo su tutta la mia posizione, magari 100 Ethereum, il premium che io dovrei andare a pagare sarebbero 3 Ethereum. Questi 3 Ethereum sarebbero venduti e utilizzati per andare a comprare spot il token della piattaforma. Quindi, sostanzialmente, questo per noi utenti, perché io oggi sto parlando come utente del servizio, non come investitore, XMT, token, la DAO. No, non me ne frega nulla in questo momento. Io voglio utilizzare questo servizio per proteggermi dal prezzo. Quindi dovrei andare a pagare, aspetta, ritorniamo ad un esempio magari un po' più umano, su 10 Ethereum. Su 10 Ethereum il prezzo è 0,296, che in questo esatto momento, andiamolo a vedere direttamente, equivale per 1725 a 510 euro. Quindi 510 euro per andarmi a proteggere su un controvalore di 10 Ethereum. Quindi, andando a semplificare, diciamo, 500 su 17250 sarebbe precisamente il 2,89%. Quindi, se io adesso volessi andare a utilizzare MetalSwap, pagherei 2,90%. Infatti, se torniamo qui sull'Excel, il primo contro commesso in classifica, ovviamente, qual è? Costi. In questo momento storico, utilizzare MetalSwap rispetto a un servizio centralizzato è sicuramente una scelta perdente, a livello di costo, ovviamente. Questo per quale motivo? È ovvio, un servizio centralizzato ha tutte altre funzioni, ha tutte altre regole, tutte altre logiche, non ci stanno le liquidi di pool. Insomma, funziona in maniera veramente tanto diversa. D'altronde, però, questo qua rappresenta un pro, forse, per MetalSwap. Poi, vabbè, dipende da cosa dobbiamo fare, dal nostro scopo, dalla nostra ideologia. Però, sostanzialmente, MetalSwap, perché costa di più? Perché è anonimo e, soprattutto, perché è decentralizzato. D'altronde, penso che non esista un servizio decentralizzato che sia più economico di un servizio decentralizzato. Insomma, chi riesce a essere più competitivo di Binance, di FTX? Diciamo, secondo me, zero piattaforme ad oggi, mi risultano. Quindi, in sostanza, i pro di utilizzare MetalSwap è che si può utilizzare un servizio decentralizzato e anonimo. Per il momento, siccome gli asset sono solamente Ethereum e Bitcoin, questi sono gli unici pro. Ovviamente, al momento, non ci sono le commodities, quindi tutta un'altra serie di ragionamenti, ad oggi, in questo momento, non ci sono. Infatti, andando a tirare giù i costi, mi sono andato a tirare giù tutti i founding rate di Bybit ogni otto ore dell'ultimo mese. In pratica, come vedete qua, il valore medio ogni otto ore, meno 0,002%, questo valore qui. Quando è meno, su Bybit, vuol dire che gli short pagano i long. Quindi vuol dire che, più o meno nell'ultimo mese, gli short hanno pagato ogni otto ore i long. Questo a montare, su una copertura di più o meno due settimane, su Bybit, corrisponderebbe a un costo come founding rate dello 0,1%. Insomma, capite bene che, rispetto ai 500 euro, che corrispondeva circa a un 2,9%, è un valore completamente diverso. Però, siamo sempre a servizio centralizzato contro servizio decentralizzato. Anche fare un paragone sui costi, secondo me, è molto forzato. Io ora lo faccio perché ho necessità di questa specifica cosa, e quindi è giusto anche vedere il costo. Però la natura di questi due strumenti è proprio diversa. È come andare a paragonare Fiat e Tesla, oppure Bitcoin e Revolut. Insomma, sono servizi veramente tanto diversi. Il secondo motivo, che in realtà è ancora più importante del primo, è il rischio chain. Infatti, io mi voglio andare a proteggere dal merge, perché non so minimamente quello che può accadere. Ricordo che è la prima volta nella storia, cioè non è una cosa che capita tutti i giorni. Insomma, è completamente una novità. Siccome io con questi soldi ci vivo, perché non lavoro più, lo sapete, non posso rischiare. E Metaswap è sulla chain di Ethereum. Quindi io non posso utilizzare un servizio che è sulla chain, dalla quale io mi voglio proteggere. Quindi ovviamente l'ho esclusa. Terzo motivo, premium. Per quale motivo premium? Perché mi sono sbagliato. Infatti, in teoria, io al primo punto stavo parlando del premium. Però siccome sono disorganizzato e non ne azzecco una, mi sono sbagliato. Infatti, il premium l'abbiamo già visto. I costi, ovviamente, non sono i costi del premium, perché il premium è un servizio che tu paghi proprio alla piattaforma con cui poi loro fanno buyback, eccetera, eccetera. Mentre i costi quali sono? I costi di operare sulla chain di Ethereum, perché in questo momento questo servizio di edging sta solamente sulla blockchain di Ethereum. Sappiamo tutti quanti che comunque operare sulla blockchain di Ethereum comporta dei costi. Ogni smart contract, ogni transazione. Al momento la blockchain di Ethereum, a parte che adesso le fee sono bassissime rispetto al passato, ma comunque non sono neanche proprio trascurabili. A volte sono 10 dollari, a volte 20, a volte 5, dipende da quanto è congestionata. Ora, in linea teorica, in futuro non si sa quando e, attenzione, non succederà con il merge. Il merge cambia solamente l'algoritmo di consenso, più o meno l'inflazione del token, ma non cambia tanto la scalabilità. Quindi non cambia la velocità delle transazioni, non cambia la quantità di transazioni possibili per secondo. Insomma, ricapitolando, questi sono i tre motivi che mi hanno spinto a non utilizzare Metaswap in questo momento. Senza giri di parole, in questo momento non regge minimamente il confronto con un servizio centralizzato e, al mio scopo, al mio obiettivo, non serve essere anonimo, non serve essere decentralizzato, quindi per il momento io ho scelto servizi centralizzati, FTX e Bybit, sostanzialmente. Insomma, il video finisce qua, spero di essere stato chiaro, di aver risposto a quelle due domande che mi avete fatto su YouTube, ovvero come mai non vai ad utilizzare Metaswap. I motivi, penso di averli detti in maniera molto chiara. Vedremo se in futuro, invece, diventerà molto più competitivo, aggiungeranno altri asset. Con questo ho finito, spero che il video ti sia piaciuto, un saluto e alla prossima.